Rieccoci a una nuova puntata della rubrica I Padovani si raccontano. Siamo al Bo, precisamente nel Museo della Goliardia, con Stefano Baroni, che è il presidente della Fondazione Comitato 8 febbraio. Stefano, intanto ci spieghi bene dove ci troviamo? Allora, questo è all'interno del Palazzo del Bo, nel cortile nuovo del Palazzo del Bo, uno spazio nel quale abbiamo allestito un museo che racconta la storia della Goliardia. Dall'inizio, dal 1222, non è tanto lungo, dal 1222 fino ai tempi nostri. E qua si possono trovare 350 circa oggetti che raccontano i vestimenti, i mantelli, i cappelli, i papiri, gli strumenti della banda goliardica e molti documenti che raccontano e fanno rivivere attraverso dei totemi espositivi, perché qua si può entrare quando si vuole e quando il Palazzo del Bo è aperto, fanno vivere l'università con l'occhio degli studenti nel tempo, nei secoli. Ecco, per chi non la conoscesse bene, che cos'è la Goliardia? Una bella domanda, ci metterei 45-50 minuti solo per questo. Allora, la Goliardia è uno spirito, è uno spirito di fratellanza, è condivisa dal momento che si diventa studenti universitari, che si decide di entrare in un certo tipo di mondo, che è il mondo dei Goliardi, di avere e di sposare un certo tipo di spirito, che è quello della satira, della burla, della comunanza di divertimento in primis, ma un divertimento intelligente e un divertimento con un sottofondo sempre culturale, perché chi lo inizia a fare o inizia a percorrere è uno studente universitario che sta arricchendosi dal punto di vista culturale proprio. Ecco, tu perché e quando sei entrato in Goliardia? Io sono entrato, il numero di cappelli che ho in testa non lo certifica, all'inizio degli anni 90, anzi, a dire la verità, alla fine degli anni 80, perché? Perché in quel momento là, un po' per spirito, un po' per curiosità, un po' perché alcuni miei amici erano all'interno di alcuni ordini goliardici, ho detto, vado a vedere che cos'è, e poi quando ti innamori di questa cosa non l'amori più, anche perché diventa anche un modello del tuo approccio nella vita, insomma. Ci racconti lo scherzo più divertente che hai organizzato? Allora, io ne ho visti tanti di scherzi, ne ho ideati alcuni, insieme a un gruppo, sempre gruppi di pazzi furiosi che si mettono intorno a un tavolo e pensano a che tipo di burla fare. La più rilevante, quella che ci ricordiamo in maniera molto, veramente molto divertita, è stata quella di Giovanni Spadolini, che era allora Presidente del Senato e che venne all'inaugurazione dell'anno accademico. E all'inaugurazione dell'anno accademico noi portiamo la gallina al rettore, e allora vuoi non portare un altro animale all'ospite? Ma Forattini lo disegnava con la codina riccia e quindi abbiamo detto, perché non portargli un maialino? Allora abbiamo trovato in prestito un maialino, diciamo con un po' di vicissitudini, siamo riusciti a farlo entrare in Aula Magna, tutti quanti stupiti perché noi portavamo sto verro e allora il capo del gabinetto del rettorato mi disse, voi se liberate il maiale dalla gabbia non vi laureerete mai in nessun ateneo globo terraqueo. E questa cosa ovviamente ci ha fatto in modo, ma non l'avremmo mollato comunque il maiale in Aula Magna evidentemente, però Giovanni Spadolini molto divertito disse, ah bello bello, abbiamo fatto un dono noi, adesso lei deve offrire da bere a tutti, venne giù al bar, portammo Spadolini qua al bar, a un certo punto Spadolini diede ordine di portare il maiale, di caricarlo sul furgone della Polfer e se lo portò via. Peccato che noi non l'avevamo comprato, l'avevamo preso in prestito, 125 mila lire, ce lo siamo ricordati per tanti tanti anni, ma ci restituì la cassa, che non era nostra, piena di ogni ben di Dio, per cui noi a dicembre festeggiamo e brindammo in suo onore, ricordando il momento della consegna del maiale, e ci accompagnò la cassa con un meraviglioso biglietto, che è una delle cose che voi potete trovare qua, dicendo molti auguri, buon Natale, e comunque un po' scritto, un po' scritto, e comunque il maialino sta bene. Quando si dimise dal Senato, un famoso giornale nazionale scrisse che era andato a prendersi cura del maiale regalato dagli studenti di Padova. E devo dire che queste cose qua ce le portiamo dietro perché la burla è stata presa bene, perché l'interlocutore è stato veramente molto goliardico. Grazie, grazie mille. L'intervista completa la trovate sull'edizione cartacea del Gazzettino di Padova e sul Gazzettino.it